Quali sono le cose da fare con Ubuntu 12.10 Linux non appena installato? Vediamole insieme una per una. Prima cosa, aggiornamenti software. Quindi andiamo sulla nostra dash e scriviamo update. Vedete, la prima cosa che appare è software update, ovvero software updater, ovvero aggiornatore, aggiornamento di software. Ci clicchiamo sopra. Vedete, di volta in volta, nonostante il nostro Ubuntu 12.10 lo avevamo aggiornato due giorni fa, adesso ci trova 11.8 MB da essere scaricati. E ce li installiamo cliccando qua in basso a destra, install now, cioè installa ce li adesso. E ce li stiamo scaricando. Se vedete i dettagli, ci stiamo scaricando varie cosine che potrebbero servirci. Quindi per avere il nostro sistema operativo preferito, Linux Ubuntu 12.10, andiamo su software update. Seconda cosa da fare con Ubuntu 12.10, aggiornare i driver. Intanto che stiamo facendo gli aggiornamenti del software, mettiamo icona, andiamo su terminal, che ci siamo messi qua, ovvero possiamo aprire la nostra dash e scrivere terminal. Per chi non sapesse cosa sia il terminal, è la console, questa qua, nera, che serve per immettere linee di comando. Quindi linee di comando, cosa andiamo a scrivere? Andiamo a scrivere jockey-gtk. Jockey-gtk. Scusatemi, il trattino, essendo su macchina virtuale, me lo prende come barra. Di conseguenza, magari voi non avete questo problema, devo utilizzare quello della tastiera numerica. Quindi jockey-gtk. Invio. Vediamo cosa ci dice. Il programma attualmente non è installato, vedete, è in inglese. Lo può installare scrivendo, typing, sudo apt-get install jockey-gtk e lo scriviamo quindi sudo apt-get install jockey-gtk e premiamo invio. Ci chiede per la sicurezza la nostra password, quindi la vostra password, la mettete, premete invio di nuovo. Naturalmente ora non è possibile installarlo perché stiamo già aggiornando il software tramite i software update che avevamo visto prima. Mettiamo in pausa e riprendiamo non appena aggiornati i software. Quindi, vedete, il pacchetto aggiornamenti software completato, lo mettiamo un attimo in icona, riprendiamo dal nostro terminal e scriviamo di nuovo, in realtà l'abbiamo copiato e incollato, sudo apt-get install jockey-gtk e premiamo invio. Ci chiede sempre la nostra password ed ecco fatto che nel nostro caso ce l'ha installato. A che cosa serve questo jockey-gtk? Dice sì, scriviamo ma non sappiamo cosa stiamo facendo. Serve nient'altro che per installare un'interfaccia utente per i driver più comuni in Ubuntu, ovvero driver per la connessione LAN, per la connessione wireless, quindi per il wifi, internet senza fili, o per le schede video più comuni, diciamo, dai nostri computer fissi o portali, come Nvidia, ATI, tutti i vari kernel riguardanti le schede video. Quindi facendo in questo modo ce lo siamo installati e lo potremmo utilizzare. In realtà esiste anche jockey, altri pacchetti di driver per le schede video, che mi pare si chiamano jockey-kde. Premiamo invio, vediamo cosa ci dice Ubuntu. E in realtà non ce l'ha, ecco qua, ce lo sta cercando, vedete? Ora non ha trovato driver proprietari da utilizzare sul nostro sistema. Comunque, in questo caso ce l'ha installati sul nostro sistema perché abbiamo magari un portatile con scheda video che non è né una Nvidia né una ATI. Per chi avesse questa tipologia di schede video, con i pacchetti jockey-gtk e jockey-kde, riga di comando, quindi, dov'è? sudo apt-get install jockey-gtk e jockey-kde, si può installare tranquillamente i driver per il wifi e per le schede video. Chiudiamo. Terza cosa da fare con Ubuntu. Vi ricordate gli aggiornamenti software? Ce li abbiamo qua in basso. Li abbiamo fatti. Li abbiamo fatti con il server di default di Linux Ubuntu. Se andate sempre da Dash, Update, Software Update, quindi, ci cliccate sopra, vi appare la finestrella, vi aggiornate il software, dopodiché andate su Settings, qui a sinistra, Impostazioni. Cliccate e ci scegliamo il server migliore, in base alla nostra posizione geografica nel mondo, in modo tale da fare prima per scaricare i nostri aggiornamenti. Ho, innanzitutto, le impostazioni degli aggiornamenti software, vedete, vengono aperte su le opzioni di aggiornamento. Nel nostro caso ce le siamo impostate giornaliere, altrimenti ogni due giorni, settimanali, ogni due settimali o mai, noi mettiamo giornaliere e quando abbiamo degli aggiornamenti, ad esempio, di sicurezza, Ubuntu ce li deve far vedere immediatamente. Quindi, giocate un po' con le vostre opzioni, dopo esservi impostati le opzioni a secondo le vostre necessità, cliccate sulla prima linguetta, qua, Ubuntu Software, vedete? Nel nostro caso, ve lo metto più in alto, qui, nel nostro caso ci stiamo scaricando gli aggiornamenti da questo Mirror Crazy Network. Ok, ma chi me lo dice che questo è il miglior server? Se cliccate qua, vedete, potete scegliere server dagli Stati Uniti, server principali, andate su altri, other, quindi qua sotto, senza starvi a scegliere le migliaia di server, magari dallo Sri Lanka, dalla Svezia o dall'Italia, dove siete voi, cliccate su Select Best Server, quindi senza fatica ci stiamo selezionando il miglior server, Ubuntu sta facendo i test contattando le centinaia di server sparsi nel mondo e si sceglie in automatico il migliore. Quindi glielo lasciamo fare e intanto vediamo, intanto che lui fa, vediamo da Terminal, quindi apriamoci il nostro Terminal che ci siamo messi qua, altrimenti cliccate su Dash e scrivete Terminal, poi vediamo insieme qual è il miglior server. Ci scriviamo questa riga di comando per fare cosa? Per installarci gli, o i, Restricted Extras, che cosa sono? Sono dei particolari pacchetti che ci permetteranno di installare sul nostro Ubuntu, ad esempio il lettore Flash Player per i browser, quindi per Google Chrome o Firefox, programmi per la sintesi MIDI, quindi per i suoni, per gli mp3, un programma che si chiama GStreamer che decodifica formati video, il Java, quindi per la tecnologia Java, il pacchetto Java trattino common, lettore DVD, mpeg, quindi per comprimere il RAR e via dicendo, quindi secondo me se lo ritenete necessario fatelo. E quindi scriviamo sudo, spazio apt-get install, spazio ubuntu-restricted extras, scusatemi, extras, con la X non con l'H, invio, ci chiede la nostra password, premiamo invio, ce l'eravamo già installato in precedenza e di conseguenza ci dice guarda che già l'ho montato, già l'ho installato, nel vostro caso sicuramente ci vorrà 1-2 minuti a seconda della vostra connessione, mi pare che sono 8 MB di pacchetti e automaticamente alla richiesta si o no, quindi y per yes, no per no, mettete yes, premete invio e a quel punto avete installato gli ubuntu-restricted extras, quindi vi siete, diciamo, tolti dei futuri eventuali problemi nel caso in cui avrete bisogno magari di lettori flash player, tecnologia Java e via dicendo. Benissimo, vediamo qual è il miglior server, il miglior server nel nostro caso è mirrorserverloft.eu, benissimo, e noi ce lo scegliamo, qua in basso vedete, choose server, mettiamo la nostra password, ci autentichiamo e a questo punto abbiamo selezionato in automatico il miglior server in base alla nostra posizione geografica e chiudiamo, e chiudiamo quindi l'aggiornamento software. Quinta cosa da fare con ubuntu, firewall, installiamoci un firewall perché la sicurezza non è mai troppa e tra l'altro questo firewall, totalmente, naturalmente gratuito, open source, si chiama Firestarter ve lo potete installare o da riga di comando o dal market, cioè l'ubuntu software center. Per far prima, clicchiamo su ubuntu software center e ci scriviamo, qua su in alto, non appena finito di caricare ricordiamo a tutti che stiamo su macchina virtuale VMware, per chi non sapesse cosa sia, dia un'occhiata al nostro canale youtube o al nostro sito internet in fase di costruzione ad ora quindi va bene, scriviamoci Firestarter e premiamo invio. Eccolo qua, ce lo siamo già installato naturalmente. Nel vostro caso, che non lo avete già installato, cliccate, doppio clic e piuttosto che remove, nel nostro caso, a voi apparirà download. Cliccate su download e dopo un paio di minuti, perché mi pare che è un mega e nove vedete, un mega e nove di spazio su disco. La lingua è inglese, mi pare, l'italiano non c'è, comunque è semplicissimo da configurare appena fatto, cliccate sempre qua, in alto a destra, install, install, mettete la vostra password, un altro minutino, minuto e mezzo ve l'ha installato, a quel punto che cosa fate? Andate su dash, scrivete Firestarter, Firestarter, ci siamo incartati cliccate, eccolo qua, e mettete la password, naturalmente, e ve lo configurate. Non ce l'ha per il system log, ma ce ne freghiamo configuriamocelo insieme. Innanzitutto, vedete, ci monitora il traffico, vedete, abbiamo ricevuto finora 14 mega e 8 ne abbiamo spediti circa 0.6 mega, ad ora l'attività di rete è 0 kilobit al secondo le connessioni attive, non c'è nessuna, vediamo di configurare il firewall e andiamo su edit, preferenze, vedete, edit, rifediamolo, preferences, eccolo qua, dov'è? Vieni su. Benissimo, in genere sull'interfaccia possiamo lasciarla anche di default sulle configurazioni di firewall, automaticamente abbiamo spuntato, avvia il firewall dal momento che il programma, cioè il sistema operativo viene avviato, su network settings vi direi che se non siete molto sicuri delle vostre caratteristiche di rete, quindi della macchina, del pc che avete, lasciatelo di default, altrimenti ve lo configurate, ad esempio se avete un DHCP, ve lo configurate come DHCP nel nostro caso non l'abbiamo e quindi lo lasciamo di default, quindi se siete insicuri lasciatelo impostato come ve lo installa Ubuntu altrimenti, diciamo, da edit preferenze potete tranquillamente personalizzarvelo e facciamo accetta nel nostro caso ce lo chiudiamo ma comunque rimane attivo Benissimo, un'altra cosa da fare con Ubuntu è installare il VLC di conseguenza andiamo anche volendo da terminal e facciamo sudo apt-get install vlc e premiamo invio, mettiamo la nostra password, ce lo eravamo già installato nel vostro caso si sarebbe scaricato qualche mega di programma, vlc, ricordiamoci che vlc non è nient'altro che il vlc media player che è famoso e personalmente lo apprezzo molto, di conseguenza ve lo consiglio ve lo installate, una volta scaricato premete yes, premete invio e ve lo installa un altro minuto di pazienza e cliccando su dash e scrivendo vlc, eccolo qua avete il vostro vlc media player, ovvero il vostro lettore di file multimediali benissimo, salvate e continuate ed eccolo qua quindi vediamo nel prossimo video la settima, l'ottava e la nona cosa da fare con Linux Ubuntu quindi affronteremo le scorciatoie da tastiera quindi ci vediamo nel prossimo video, grazie per l'ascolto, ciao